story time evoluzione radio e bentornati cari amici di story time con un nostro nuovo video backstage sono in compagnia di stefano ciao stefano ciao piacere di essere qui ciao allora stefano tu cosa ci racconterai parlerò principalmente della mia scrittura di dei miei progetti futuri di quelli passati insomma sei uno scrittore sono uno scrittore se ti chiedo come ti avvicini al mondo della scrittura in realtà ho sempre scritto fino a quando ero piccolo batteva macchina non è che computer quindi ero proprio come negli anni 60 e poi ho smesso per un po e ho ricominciato verso i vent'anni proprio appassionarmi a questo mondo cosa scrivi scrivo principalmente romanzi ok qualche racconto ma non sono proprio il mio il mio genere e il livello di generi di scrittura sono fantasy thriller romance un po di tutto mi piace variare perché se scrivo sempre stesso genere meno è giusto anche spaziare un po molto bello e ti chiedo hai pubblicato qualche libro che possiamo trovare se c'è il lascito che tutta una serie fantasy su su amazon se no deve uscire a fine mese 1888 che è un thriller ambientato nella londra vittoriana sempre qualche elemento un po horror fantasy ma è più concentrato sul thriller se no c'è meto psicosi che è un thriller psicologico e adere invece che un romanzo più classico diciamo più una storia più tranquilla ok sempre con qualche molto ammazzato però è un po il tuo stile sembra una cosa molto interessante e ti chiedo noi attenti possiamo seguire da qualche parte per appunto tenerci aggiornati su io pubblico ogni tanto perché non sono proprio social però comunque su instagram sono calvin idol col trattino basso e su facebook stefano caruso protowright che la mia etichetta con cui pubblico tutti i miei romanzi allora io direi che questo nostro video backstage è terminato perché appunto era una piccola pillolina ma fra poco partiremo con l'intervista ufficiale dove faremo come fa lo scanner ti scannerizzeremo e capiremo tutto di te della tua passione i trucchi per scrivere tutto quanto va bene sei pronto 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 allora anche voi non perdetevi l'intervista iniziamo subito story time evoluzione radio